e alla fine l'annuncio è arrivato ieri sera stavo mettendomi per preparare la cena mi si illumina il cellulare notifica di one football la apro subito ufficiale zlatan ibraimovic torna al milan me lo aspettavo ormai l'avevamo capito tutti l'operazione era in addirittura d'arrivo il milan si era convinto aveva convinto zlatan a tornare in rosso nero però l'annuncio è stato un po improvviso perché non ce l'aspettavamo ieri sera non ce l'aspettavamo così all'improvviso una dichiarazione una comunicazione da parte del milan zlatan sta tornando e adesso bisogna fare dei ragionamenti perché adesso davvero si è compiuta questa operazione completamente fuori linea rispetto ai parametri mostrati da chi gestisce il milan da chi ne ha la proprietà evidentemente in special modo dopo il 5 a 0 incassato nell'ultima partita contro l'atalanta si è capito che bisognava dare un segnale forte che bisognava intervenire anche fuori dalle procedure da qui la decisione del milan che secondo me sta presa anche già prima però la necessità del milan di annunciare un colpo come zlatan ibraimovic vi confesso una cosa sono molto indeciso nei miei pensieri riguardo a questo ritorno a questa operazione sono molto indeciso e di conseguenza sono molto curioso di vedere come tornerà ibra come impatterà come si ripresenterà e quello che farà un giocatore che è stato un campione assoluto un campione vi dico addirittura questo fin troppo poco celebrato perché è vero che non ha vinto la champions league è vero che non ha vinto il pallone d'oro ma ibraimovic è stato un vero re ovunque è andato e soprattutto è sempre stato un re sul campo da calcio ha sempre attirato un rispetto quasi un timore reverenziale da parte di tutti i suoi colleghi sia compagni che avversari e ha sempre scatenato la fantasia l'ammirazione di chiunque abbia avuto il privilegio di vederlo giocare specialmente dal vivo io ricordo la prima volta che ho visto giocare ibraimovic dal vivo ho sempre avuto un gradimento fin da quando giocava all'ajax mi sembrava un giocatore con delle particolarità delle unicità non lo avevo però compreso fino in fondo fin quando non l'ho visto giocare dal vivo e lì mi si è spalancato un mondo perché vedevi un 9 un 11 e un 10 fusi insieme fare calcio assoluto dominare completamente la scena e la contesa questo è stato zlatan ibraimovic nel corso di tutta la sua carriera cos'è oggi zlatan allora vi dico tendenzialmente sarei molto scettico riguardo un'operazione del genere se mi dicessero un club in difficoltà che deve scalare la classifica che ha problemi realizzativi che ha problemi in tutti i reparti che ha avuto una prima parte di stagione totalmente deludente che ha esonerato un allenatore che doveva portare un impianto di gioco in grado di caratterizzare questa squadra che ne ha preso un altro che evidentemente ha fatto delle cose ha portato delle nozioni ma non è ancora riuscito a sbloccare tutti e forse a farci seguire fino in fondo che come risposta a tutto questo prende un trentottenne che non gioca da due mesi reduce da due anni di buon retiro di allenamento tra virgolette poco agonistico in un campionato non di seconda ma addirittura di terza fascia io penserei a una follia a un'operazione impossibile da giudicare come positiva e ancor meno possibile da pensare come portatrice effettivamente di una svolta questo discorso lo farei per il 99 forse il 99 e mezzo per 100 dei trentottenni in giro nel mondo del calcio ma qui parliamo di zlatan ibrahimovic ed è un'eccezione doverosa perché se c'è uno che può davvero invertire questo tipo di pensiero sempre più radicato è proprio lui primo perché ibrahimovic è sempre stato un portento dal punto di vista fisico è un giocatore che ha avuto anche degli infortuni ma si è sempre curato molto bene basta vederlo ibrahimovic fisicamente credo sia assolutamente al top di quello che può essere un atleta professionista della sua età forse anche di qualche anno in meno per cui sotto questo aspetto ibrahimovic credo che di dubbi ne presenti pochi oltretutto c'è il discorso della sua personalità ibrahimovic non è uno che torna dagli stati uniti viene in italia si rimette la maglia del milan una maglia pesantissima nella storia del calcio e molto significativa in quello che è stata la sua carriera se non è convinto di poter fare un ritorno da re oltretutto la squadra ha chiaramente bisogno di un punto di riferimento di un totem ma anche di uno che faccia schiocare la frusta durante gli allenamenti durante la settimana durante la quotidianità perché il milan ha una serie di risorse secondo me effettive però fin qui totalmente inespresse di conseguenza avere la presenza di ibrahimovic una presenza molto rumorosa una presenza che ti porta a migliorare ma lo fa attraverso un'educazione militare con ibrahimovic non si ride non si scherza tantissimo sicuramente sono più i momenti in cui ti prendi delle lavate di capo comunque delle proposizioni petto contro petto faccia contro faccia testa contro testa Zlatan è fatto così io credo che in questo senso nello spogliatoio del milan l'arrivo di ibrahimovic sia un qualcosa di estremamente squillante sul piano tattico invece ibrahimovic come entra nel mondo milan entra di fatto come una punta un centravanti che arriva per giocare da titolare ibrahimovic è tornato a milano per giocare una partita sì una partita no per stare in panchina per far da chioccia qualcuno no Zlatan è tornato per essere il centravanti del milan di conseguenza buono perché il milan è la quinta squadra ad aver segnato di meno in serie a ha un problema chiaro con il gol Piontek si è involuto terribilmente leao non riesce a fiorire con continuità l'arrivo di ibra mi sembra che sia un problema più per il polacco che non per il portoghese perché perché è vero che nel calcio tutto si può fare e soprattutto ibrahimovic è un attaccante come vi dicevo prima talmente completo talmente assoluto che può pensare specialmente in una squadra del genere specialmente in questa fase della sua carriera di integrarsi di lavorare magari anche diversamente rispetto a quello che può essere il primo pensiero il pensiero comune però ibrahimovic è il punto di riferimento assoluto dell'attacco e Piontek lo abbiamo visto chiaramente è uno che deve gravitare all'interno dell'area di rigore se lo porti fuori se lo fai lavorare se lo fa interagire è un attaccante che non sciorina le sue caratteristiche migliori mentre raffaeleao pur essendo un attaccante vero oppure essendosi presentato come riferimento centrale di un tridente è anche uno che ha dei movimenti ha della velocità ha della capacità di svariare e allora con ibrahimovic a livello immediato l'integrazione più probabile sembra quella del ventenne portoghese oltretutto è stato un investimento significativo del fondo che dirige il milan anche Piontek lo è stato però ci sono dinamiche un po' diverse in questo momento io mi immagino leao come partner principale di Zlatan Ibrahimovic e allora facciamo un ragionamento visti i problemini che ha palesato leao dal punto di vista attitudinale io non parlo di quello che succede fuori dal campo anche perché spesso sono cose che non riflettono la realtà parlo solo del prato del rettangolo verde leao che non rincorre l'uomo leao con qualche atteggiamento un po' sbruffone leao senza la giusta cattiveria senza l'attitudine del ventenne che dovrebbe mangiare l'erba costretto ad allenarsi e ad andare in campo con Zlatan Ibrahimovic voi che dite io credo che leao si sveglierà presto se non lo farà passerà qualche mese decisamente brutto anche perché il contratto di Zlatan Ibrahimovic le cifre le avete lette le sentirete è un contratto comunque molto particolare sei mesi con opzione per un'altra stagione a seconda degli obiettivi sia individuali che di squadra il che vuol dire che Ibra ha questo girone di ritorno per conquistarsi un altro anno di contratto un altro anno che partirebbe praticamente dal compimento dei suoi 39 anni per cui immagino anche che gli obiettivi fissati siano stati piuttosto esigenti quindi Ibra Ibrahimovic arriva per impattare subito e ripeto Raffaeleao ha una grande occasione perché se Raffaeleao si mette ad imparare da Ibra allora può avere veramente un regalo in questa fase di imprinting della sua carriera se invece Raffaeleao pensa di mantenere quel tipo di linguaggio del corpo di espressività che ha avuto fin qui allora ripeto credo che Zlatan Ibra Ibrahimovic interagirà piuttosto spesso con lui ma ripeto Ibra è uno duro duro per come ti prende è uno che non regala gentilezze non è uno diplomatico però è uno che ti migliora ricordo quest'estate mentre stavo commentando la Coppa America di aver trovato un'intervista vecchia ma neanche tanto vecchia di Marquinhos il brasiliano difensore anche se il PSG gioca ogni tanto in mezzo al campo e ricordava proprio i tempi in cui aveva convissuto con Ibra al Paris Saint Germain Marquinhos raccontava del fatto che quando è arrivato al PSG ancora più di quando giocava alla Roma gli era stato richiesto di impostare il gioco di far partire il gioco da dietro e lui diceva io quando giocavo in Brasile ero stato abituato a recuperare palla e poi mandarla in avanti perché avevamo tanti giocatori tecnici comunque tu la mandavi in avanti una volta finiva in fallo laterale se arrivava davanti più o meno si giocava non ho mai pensato di valutare accuratamente dove far uscire il pallone e anche lavorare per migliorare un piede che aggiungo io è già piuttosto buono bene Marquinhos racconta di Ibra Ibrahimovic che in un allenamento lo prende e gli dice senti tu non hai la più pallida idea di come si debba lanciare fai una cosa quando riprendi palla alza la testa guarda Ibra e dalla lui Marquinhos ha detto che da lì da questa lezione in stile Zlatan lui ha imparato proprio questa cosa recupero palla alzo la testa e la do al giocatore migliore o comunque al meglio posizionato questo insunto in un piccolo esempio il primo che mi è venuto in mente per farvi capire quanto Ibra Ibrahimovic possa portare all'interno di un gruppo all'interno di uno spogliatoio poi però queste sono tutte cose vere ma la cosa più vera sarà il giudizio del campo e il campo è spietato il campo non guarda alla carriera non guarda alla personalità il campo guarda all'effettività e allora lì non vedo l'ora di vedere il campo perché ripeto sono un po dubbioso ma non dubbioso sono curioso come vi ho detto all'inizio del video di capire davvero se Ibra Ibrahimovic ci regalerà il ritorno dell'anno stiamo finendo un decennio se ne sta aprendo un altro se Ibra Ibrahimovic dovesse azzeccare questo ritorno se il Milan dovesse vincere questa scommessa saremmo di fronte a una storia che racconteremo non solo per tutto il decennio ma anche per quelli a seguire perché sarebbe un'incredibile straordinaria cosa di calcio che ci esploderebbe di fronte al volto se invece la realtà dovesse mostrare un Ibraimovic tra virgolette invecchiato un Ibraimovic comunque mettiamola così non in grado di risolvere i problemi del Milan allora sarebbe una toppa discreta e sarebbe un problema molto grande per tutto il mondo rosso nero di certo questo ritorno di Zlatan è il fuoco d'artificio il super botto che ci voleva per inaugurare il mercato invernale di una serie A che ve l'ho detto tante volte quest'anno ha dato segni di cambiamento ha dato segni di mutazione di miglioramento secondo me comunque di cambio di certe dinamiche di certe consuetudini beh con Ibraimovic che torna di cose che ne cambiano ce ne sono parecchie